Al Via Campus Autogrill, l'iniziativa promossa dal primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, per proporre un'opportunità di formazione e inserimento lavorativo in ambito food ai giovani under 30 della Sicilia, dove l'azienda è presente con 11 punti vendita. L'iniziativa prevede per 40 giovani selezionati un corso di formazione gratuito, composto sia da lezioni teoriche, sia da laboratori pratici nelle città di Catania e Palermo, che porterà quanti supereranno l'esame finale ad accedere al mondo autogrill, prima attraverso un contratto a tempo determinato di sei mesi in uno dei punti vendita sul territorio nazionale, con alloggio a cura di autogrill e poi con un percorso di apprendistato professionalizzante da responsabile del servizio della durata di due anni per un numero selezionato di giovani promesse. Il tour comincerà lunedì 17 gennaio a Palermo alle 11 a Villariso in Via dell'Olimpo, per poi proseguire in tre diverse piazze siciliane, a Palermo, Castelbuono e Modica. L'obiettivo è quello di entrare in contatto con le aziende locali, che rappresentano le eccellenze del territorio, e di portare il mondo autogrill all'attenzione degli studenti e delle scuole professionali, per fornire loro uno strumento di orientamento utile per il loro percorso formativo, e far conoscere le modalità di inserimento nel mondo del lavoro offerte dal campus, testimoniando la costante attenzione dell'azienda al tema dell'occupazione giovanile. Grazie